E lui diceva quella chiave di Berlusconi, quella chiave di Berlusconi, se mi capita, deve fare un mazzo così, a Berlusconi. Ha querelato questi testimoni, ha denunciato questi testimoni, Taloiso ha cercato di capire cosa succede su questa importante denuncia del giudice esposito. Contro queste tre persone c'è un procedimento penale attualmente pendente. Così è dichiarato il giudice, o in pensione Antonio Esposito, presidente della sezione di Cassazione, che condannò Silvio Berlusconi, dopo la messa in onda a Quarta Repubblica, delle tre testimonianze circa un suo possibile pregiudizio nei confronti del leader di Forza Italia. Se mi capita, devo fare un mazzo così, a Berlusconi. Con il procedimento penale, vende con due o tre dipendenti dell'hotel di Ischia un tempo frequentato da Esposito, siamo andati a controllare. Il 3 aprile 2019, dopo essere venuto a conoscenza delle deposizioni dei tre testimoni, Esposito presenta alla procura di Napoli una querella per diffamazione ai loro confronti. A distanza di un anno e tre mesi non risultano azioni o provvedimenti in seguito alla querella. Il fascicolo non ha avuto alcun avanzamento. Sempre nell'aprile 2019, l'alto magistrato invia un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, contro il difensore di Berlusconi, Bruno Larosa, segnalandola nella condotta abusiva e sostenendo che non avesse l'autorità per interrogare i tre testimoni. L'Organo degli Avvocati ha respinto l'esposto, giudicando corretto l'operato di Larosa. Il 29 maggio scorso, l'ex giudice di Cassazione presenta una nuova denuncia nei confronti dei tre testimoni, ipotizzando il reato di false informazioni al pubblico ministero. Il PM Maria Di Mauro della Procura della Repubblica di Napoli apre come di prassi un fascicolo per il quale, ad oggi non sono state ancora iscritte ipotesi di reato, ma il reato eventualmente da contestare potrebbe essere un altro, ovvero false dichiarazioni al difensore. Ed essendo trascorsi sei anni, gli interrogatori si sono ottenuti nel 2014, come previsto dalla legge, sarebbe soggetto a prescrizioni. E dunque non si potrebbe procedere nei confronti dei tre lavoratori. Onorevole Bernini, lei guida i senatori di Forza Italia, ma è anche un avvocato. E le voglio chiedere, i rilievi che portano queste testimonianze con le posizioni diverse, ma che peso hanno politicamente e anche giuridicamente per il vostro partito oggi, posto che poi quella sentenza è passata in giudicato? Guardi, per noi il fatto che si sia trattata di una persecuzione giudiziaria fin dall'inizio, di un accanimento giurisdizionale che ha toccato il Presidente Berlusconi a partire da quando è salito sul palcoscenico della politica, non è una novità. Si tratta veramente di un segreto di Pulcinella. Noi a partire dal 1994, da quando abbiamo visto recapitare, lo sapete, lo avete ricordato anche voi, al Presidente Berlusconi, tra l'altro impegnato in un'importante carmessa internazionale, da Presidente del Consiglio, un avviso di garanzia non per via giudiziaria, attraverso la Polizia giudiziaria, bensì a mezzo stampa. Ecco, da qui comincia la follia giudiziaria, la follia mediatico-giudiziaria magistratuale che ha riguardato la vita del Presidente Berlusconi. Voi pensate, lei lo sa, Dottor Porro, perché ne sta parlando da tre settimane ininterrottamente, ma sono i numeri che fanno impressione. Io non ho mai visto, lei mi parla del mio ruolo di avvocato, glielo ha detto anche Gian Domenico Cagliazza, Presidente dell'Unione Camere Penali la settimana scorsa. Io non ho mai visto, mai, né a livello nazionale né a livello internazionale, un accanimento del genere contro una persona. Più di 70 processi, quasi 80 processi, 3.000 udienze, 100 pubblici ministeri che si sono occupati di lui, captazioni, intercettazioni, non solamente a lui, ma tutte le persone che anche in via tangenziale toccavano le sue residenze. Fermala, devo interromperla per motivi molto berlusconiani della prima ora, la pubblicità, 20 secondi e poi ritorniamo.